Ben tornati ragazzi, oggi parliamo di attrezzature da demolizione e lo facciamo alla grande con un costruttore totalmente italiano, Treppi Benne, in particolare parliamo del prodotto MK10. In questa configurazione lo vediamo con il kit FR, ovvero con il kit franitubatore. Ha un'apertura della bocca di 66 cm, con i coltelli, i denti e ci permette di fare un po' di tutto, votato principalmente alla demolizione secondaria a terra ma, perché no, può lavorare anche in quota. Esiste la possibilità di cambiare solo il kit Kellen con cesogna o pinza primaria tradizionale. Rotazione idraulica, questo è un prodotto da 1100 kg, più o meno, poi prendiamo la sella, i perni e così via, che ha dato da macchie che vanno da 100 a 150 quintali. L'abbiamo affinata a questo bellissimo ECR 145 EL, macchina a 155 quintali, in questa configurazione forse qualcosina di più per via del braccio triplice e perfetta per portare questa macchina. Andrà a lavorare chiaramente in un cantiere alla demolizione, non andiamo tanto in quota, ma questo ci permette di fare un po' tutto con jolly, primaria, secondaria, ci separa pure il ferro dal cemento ed è veramente un bellissimo prodotto, come dicevo prima, totalmente italiano. Andiamo a vedere come funziona. Allora, ci andiamo a impostare tramite il menu, la funzione dell'impianto idraulico, X1, che rappresenta il nostro impianto idraulico e attrezzatura, esiste Hammer, Sheer e Selvepinza, ma noi abbiamo già creato un profilo dedicato all'MK10. Lo selezioniamo e da questo momento tramite questo manipolatore di destra andremo a richiamare la funzione di apertura e di chiusura e tramite questo manipolatore di sinistra la rotazione. Andiamo a vedere. Adesso la chiudiamo e la riapriamo tramite l'altro manipolatore di sinistra andiamo a dare la rotazione. Ora, ci andiamo a vedere. Grazie a tutti. Questa bella pinza, chiaramente come sempre tutta questa attrezzatura la trovate disponibile in vendita all'orreggio, in descrizione trovate i link per contattarci e per chiederci eventuali altre informazioni su questi splendidi prodotti. Ragazzi la raccomandazione è sempre la stessa, iscrivetevi al canale, mettete un like, non vi costa niente, a noi fa tanto piacere e mi raccomando fate scoppiare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri ultimi contenuti. Come sempre, fate i bravi, ciao! Grazie a tutti.